Dopo la visita della nave FB Berlin di qualche settimana fa, una nuova nave da crociera a Proda ad Ortona e c'è una nuova delegazione di turisti che sono arrivati per visitare le bellezze architettoniche, culturali ma anche agricole del territorio ortonese. Un'altra visita organizzata dall'assessore Gian Nicola Di Carlo con scopi ovviamente di ritorni turistici per il futuro. Sì, indubbiamente non solamente turistici ma anche riferito a tutte le potenzialità che è il territorio di Ortona e non solo, parliamo del territorio abruzzese che deve essere assolutamente riscoperto e valorizzato. Attraverso questa nuova compagnia, l'Hamburg, di sempre compagnia tedesca, abbiamo organizzato questa seconda giornata qui per l'approdo su Ortona ma mettendo a disposizione dei pullman per visitare non solamente Ortona, quindi Ortona è una città aperta a queste visite spontanee, libere su tutta la città per riscoprire oltre che le bellezze turistiche e architettoniche ma anche quelle più strettamente storiche legate al nostro passato, alla nostra storia e perché no alla bontà dei prodotti enogastronomici e a una ristorazione ricca fatta di prodotti del mare e della terra. Questa delegazione nel momento in cui stiamo realizzando questa intervista sono in giro per il territorio? Sì, sono qui in giro per visitare, come dicevo, Ortona, la città di Ortona e altri pullman sono indirizzati su destinazioni da il Volto Santo di Manoppello, Lanciano, Guardia Grele, un po' tutto il nostro introterra che hanno altrettanto caratteristiche di notevole interesse. La prima visita ha dato qualche frutto quindi? Sì, la prima visita continua a mantenere dei frutti in quanto ogni tanto riceviamo telefonate di ringraziamento ma assolutamente ci sono dei legami che stanno maturando per i prossimi anni. Questo non è solo che l'inizio di un percorso che deve assolutamente maturare. Abbiamo in questi giorni, proprio questa mattina, anche un interesse importante da parte di gruppi, di fondi, di investitori che anche alla luce di questi approdi, di questi attracchi sul porto di Ortona riusciamo meglio a far trasparire questa potenzialità e questa voglia di metterci in discussione, questa voglia di crescere e questa voglia soprattutto di condividere dei progetti per il futuro con chiunque lo voglia condividere con noi. Quindi una città aperta, una città amica, una città che vuole mettersi in discussione raggiungendo obiettivi comuni con chi vuole condividere con noi questo percorso.